A Cronia Leto non si respira un'aria tranquilla almeno da qualche tempo. E' la conclusione a cui giunge il consigliere comunale Sebastian Maiocco nel rendere nota la mancata seduta dell'assise civica fissata dal sindaco Orlando Persia per il 4 e 5 aprile in prima e seconda convocazione. Alla base dell'assenza della maggioranza ci sarebbe un difetto di notifica segnalato dal capogruppo di azione, ex vicesindaco, prima dell'adesione al partito di Calenda, anche al prefetto. Il regolamento comunale prevede che ci siano 5 giorni lavorativi interi e liberi prima della prima adunanza. Ho notato l'anomalia e l'ho segnalato al sindaco, al segretario comunale e alla prefettura di Teramo. La maggioranza ha deciso di disertare il consiglio in prima e seconda convocazione. Io facevo parte di questa maggioranza fino a novembre 2023 quando il sindaco Persia decise di estromettermi dall'aggiunta asseritamente per motivi di lavoro ma casualmente il tutto avviene 15 giorni dopo il mio tesseramento col partito di azione. Per motivi di preoccupazione per Maiocco c'è anche la mancata approvazione del bilancio di previsione. Quello che più preoccupa questo gruppo consigliare ora è la mancata approvazione del bilancio di previsione che doveva avvenire entro il 15 marzo 2024. Leggeremo attentamente gli atti. Leggeremo attentamente gli atti.